Sono partiti i cavalli del Campobello 2013. Oltre Calité, sembra intenzionato ad andare in testa, cosa che in effetti fa anche con una certa decisione. Al senso di seguimento si pongono per via interna e Denusa con a suo fianco Parpignol al quarto Pentagono, all'interno del quale ha trovato posto Cleofan, poi Falbo a chiudere il gruppo per via interna e Salar Hart. Oltre Calité, dopo lo strappo iniziale, li prende in mano e va a graduare. Al secondo posto gradualmente si porta a Parpignol con all'interno Denusa in giuba rosa. Tra i cavalli in bianco-rosso-verde galoppe invece Cleofan che tiene per corsie larghe Pentagono in giuba azzurra con il cap giallo. In giuba azzurrine gialle invece per le corsie interne Salar Hart. Un gruppo che si ricompatta con Oltre Calité che continua ad impostarla davanti a Parpignol che è secondo. Al terzo posto si mantiene Denusa per via interna e con allargo Pentagono in giuba azzurra con il cap giallo. Al suo interno rimane Cleofan mentre Salar Hart galoppa sempre allo steccato a chiudere il gruppo Falbo con l'altra giuba rosa ma con i bracciali. Queste le posizioni sulla piegata finale verso il completamento della stessa e sempre Oltre Calité in vantaggio. Su Parpignol costantemente a suo fianco all'interno Denusa poi allargo Pentagono che si sta facendo luce. Più dietro Cleofan che temporeggia Salar Hart e Falbo con Oltre Calité che ha rubato qualcosa sui avversari. Va già in piena accelerazione. Pentagono e Parpignol al suo insuimento mentre Cleofan si butta al centro della pista. Più dietro Salar Hart e ancora in vantaggio Oltre Calité. e allunga i 400 scarsi su Cleofan che si butta a largo scavalcando Parpignol e Pentagono. Poi anche Salar Hart, Oltre Calité che è ancora davanti rispetto a Cleofan che ci prova con tutte le sue forze all'ultimo farlo. Ma Oltre Calité nettamente in evidenza rispetto all'avversario. Dispersione per Oltre Calité che stravince il campo belli in uno spettacolare cost to cost. Al secondo Cleofan per il terzo Parpignol e Salar Hart, poi Pentagono e due di scuderia. Impressive! Ancora una volta Oltre Calité. Ancora una volta questo inticab della scuderia FV Fabio Branca in sella che ha il tempo di rallentare, rialzarsi e guardare ciò che c'è alle sue spalle. Signor Stefano Botti al training. Grazie a tutti!